È un momento importante per la nostra associazione, sono molto felice di celebrare insieme questo traguardo che raggiungono alcuni nostri associati e quindi è un onore invitare sul palco le aziende che vengono premiate quest'anno. Bauce e Narciso, ritira la targa, Danilo Bauce. Bonotto, ritira la targa, Giovanni Bonotto. Elettromeccanica Gonella, ritira la targa, Alberto Gonella. Fas International, ritira la targa, Luca Adriani. Ferro Berica, ritira la targa, Giorgio Binelle. Officine Brevetti Caron, ritira la targa, Roberto Caron. Risco, ritira la targa, Paolo Riegele. SEA, Società Elettromeccanica Arzignanese, ritira la targa, Lucilla Sartori. Trafimet Group, ritira la targa, Jacopo Bonato. Grazie. 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 Grazie.